Musica Presidente, la tipicità di Puglia, la qualità di Puglia, adesso anche la rintracciabilità, un valore in più per il commercio dei nostri prodotti agricoli? Ma noi raggiungiamo un traguardo, devo dire veramente storico, siamo la prima regione d'Italia che mette sui mercati internazionali il marchio prodotti di Puglia, non so se voi girando per le botteghe di Puglia vi siete accorti di quanti marchi accompagnano una straordinaria e versatile produzione di olio extravergine d'oliva, ma tanti marchi, non so se si immagina quanto è difficile far percepire che uno dei nostri straordinari vini, fosse il Nero di Troia, il Primitivo di Manduria o il Negramaro, sia percepito come un prodotto di Puglia e posso continuare con tutto il paniere degli straordinari prodotti che questa terra con le sue peculiarità, forse un po' baciata da Dio, può immettere nella mensa planetaria. Allora avere un marchio unificante che diventa un brand, diventa un tema, introduce l'idea che in questo lembo di Europa che è al centro del Mediterraneo, a quelle temperature, con quel corredo di uliveti secolari ci sono le produzioni che diventano merce pregiata e allora quel marchio lì ci aiuta a esistere, marchi che rappresentano una frammentazione della filiera agroalimentare rendono difficile la percezione che si tratta di prodotti di Puglia, un marchio prodotti di Puglia è legato anche alla tracciabilità del prodotto, al fatto che quello è un prodotto proprio raccolto in Puglia, lavorato in Puglia, trasformato in Puglia e anche con dei parametri di ecosostenibilità e di risparmio energetico, cioè immettiamo non soltanto un profumo e un sapore di Puglia, immettiamo nei mercati internazionali un'idea di modello di sviluppo rispettosa nei confronti della natura e insomma portiamo un pezzo di noi, quindi oggi come tutto il mondo dei produttori, dei sindacati e delle campagne sanno, oggi tagliamo veramente il nastro di un traguardo fondamentale. Il presidente della regione Puglia, Nichi Vendola, si fa testimone della nascita del marchio prodotti di Puglia. La Puglia è infatti la prima regione in Italia ad essere titolare di un marchio collettivo con indicazione territoriale. Un sistema nuovo per sostenere i produttori, per tutelare i prodotti agroalimentari dalla concorrenza sleale di merce proveniente da altri paesi, ma spesso priva dei medesimi standard di sicurezza alimentare e inoltre garantire ai consumatori che avranno la certezza di acquistare prodotti di qualità e provenienti da filiera 100% pugliese. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.